Ascoltate ragazzi, ci sono un sacco di notizie infondate su internet. Ad esempio, io non sono Thundergirl e non ho sicuramente nessun superpotere. Di pure addio ai tuoi superpoteri, Thundergirl! Max! Fermo, che vuoi fare? Link, come va Hong Kong? Ah, meraviglia, ho preso un concel... Non ci interessa! Oh, Phoebe! Non hai ancora vinto questa battaglia! Non è una semplice battaglia, questa è una guerra! Per tutto questo tempo Phoebe è stata Thundergirl! Io la sapevo già da più di un anno! Ragazzi, siamo stati gomito a gomito con Thundergirl, pazzesco! Wolfgang! Max ha i superpoteri! I superpoteri e anche una band! La mia vita fa schifo! Basta, Max, non mi fai perdere la concentrazione! E niente farà perdere la mia! Ragazzi! Papà! La mia sfera! No, non la tocchi! Fradicia, ma ancora utile! Sembra che Edenville stia per perdere il suo nuovo supereroe! Max! Fermati! Rivolgiamo i poteri! Dark Mayhem sta venendo qui per distruggerci tutti! Ti sbagli, sono già qui! Anche Strondor è già qui! Finalmente ci incontriamo, Thundergirl! Max, cosa aspetti? Prendi i poteri di tua sorella e diventerai uno di noi! Max, ti prego! Io lo so che ce l'hai con me, ma Dark Mayhem non può distruggere la città! Oh, Thundergirl! Non voglio distruggere Edenville! Voglio ridurre i schiavi tuoi suoi abitanti! E costruire il mio nuovo impero del male! È questo che vuoi, Max! Rinunciare a tutto! Ai tuoi amici! A Ellison! Alla tua famiglia! Dai, non essere titubante! Puoi avere quello che hai sempre desiderato! Ho già quello che desidero! Ma che cosa stai facendo? Ridò alla mia famiglia i poteri! Sei un pazzo! Sì! Siamo tornati! Born, credo di avere il tuo potere! Ma allora io quale dovrei avere? La supervelocità! Mi sono teletrasportata! Thunder Baby, in azione! Billy, allora tu hai i raggi laser! Non mi interessa, non sono un supereroe, riprenditeli! Non funziona così! Che è successo? Il Punch ha mandato la sfera in cortocircuito! Sono confusi perché hanno i poteri sbagliati! Catturateli! Enderman, all'attacco! Ti sei schierato dalla parte sbagliata! Minacciare la mia famiglia è una cosa, ma rovinarmi il vestito prima di aver fatto le foto è inaccettabile! Non mi hai preso! Non mi hai preso! Scusi, non so usare i poteri di mia moglie! Strondor colpisce! Aiutami, Billy! Non c'è nessun Billy qui! C'è solo un tipo che non è un supereroe! Non resisteremo in eterno! Trava la sfera, io lo distraggo!